fratelli dio vi ha chiamati alla libertà ma non servitevi della libertà per i vostri comodi anzi lasciatevi guidare dall'amore di dio e fatevi servi gli uni degli altri perché chi ubbidisce a quest'unico comandamento ama il prossimo tuo come te stesso metti in pratica tutta la legge se invece vi comportate come bestie feroci mordendovi e divorandovi tra voi fate attenzione finirete per distruggervi gli uni gli altri ascoltatemi lasciatevi guidare dallo spirito e così non seguirete i vostri desideri egoisti l'istinto egoista ha desideri contrarie a quelli dello spirito e lo spirito ha desideri contrari a quelli dell'egoismo queste due forze sono in contrasto tra loro e così voi non potete fare quel che volete se lo spirito di dio vi guida non siete più schiavi della legge tutti possiamo vedere quali sono i risultati di una vita egoista immoralità corruzione vizio idolatria magia odio litigi gelosie ire intrighi divisioni invidio ubriachezze orge e altre cose di questo genere io ve l'ho già detto prima e ve lo dico di nuovo quelli che si comportano in questo modo non avranno posto nel regno di dio lo spirito invece produce amore gioia pace comprensione cordialità bontà fedeltà mansuetudine dominio di sé la legge certo non condanna quelli che si comportano così e quelli che appartengono a gesù cristo hanno fatto morire con lui inchiodato alla croce il loro egoismo con le loro passioni e i desideri che esso produce perciò se è lo spirito che ci dà la vita lasciamoci guidare dallo spirito galati 5 versi da 13 a 25 con le loro spirito galati 1 Grazie a tutti.